Buona una prima, il primo obiettivo stagionale raggiunto, ora giocherà lunedì contro il Milan. È stata una gara vera e quando sono i tre punti in palio allora si vede il calcio, quindi dimentichiamo il calcio d'agosto, è importante in prospettiva per acquistare anche consapevolezza delle proprie forze e provare gli schemi. È stata buona la prima e allora andiamo avanti e affronteremo il Milan per la Coppa Italia. Abbiamo visto un Perugia forte mentalmente, soprattutto questa è una caratteristica che forse mancava un po' al Perugia. Questa combattività, questa foga agonistica che poi alla fine, come aveva detto Bisoli, sono le motivazioni a far vincere le partite. E così è stato oggi perché abbiamo visto lottare ogni giocatore su ogni pallone e questo è il Perugia che vorremmo vedere anche a Milano. Perché se le motivazioni sono forti allora non c'è nessun avversario temibile. Compatta e affidabile sulla strada per Milano, la squadra di Bisoli forse non sarà brillante, forse non sciorinerà gioco spettacolare, però ha dimostrato di aver già assimilato le peculiarità fondamentali del suo allenatore. Quindi attenzione alla fase difensiva, i due mediani, Salifo e Rizzo, hanno fatto un gran lavoro anche stasera. Ripartenze e verticalizzazioni veloci tramite i trequartisti per le due punte. Due punte perché Di Carmine era stato schierato da trequartista però ha fatto più, come dire, la seconda punta nei giochi di sponda con Ardemagni. Ardemagni due gol, tre occasioni, massimo dell'efficienza. Quindi tutto sembra tornare, ovviamente siamo soltanto ad agosto e siamo soltanto alla prima di Coppa Italia, ma possiamo archiviare anche questa partita positivamente. Tanto per le note negative ci pensa Bisoli che annota sempre tutto e poi richiama i suoi durante la settimana. Un Perugia compatto e concreto batte la Reggiana. Un Perugia che esce fuori alla distanza non inizia benissimo ma poi comunque impone alla Reggiana il suo credo calcistico e il suo gioco. Quindi questo è molto importante dal punto di vista mentale. Dal punto di vista fisico il Perugia ancora non è pronto ovviamente, siamo solo al 9 di agosto, c'è ancora da lavorare. Hanno terminato oggi un ritiro pesante che è durato quasi un mese tra Sarnano e Pietralunga. Quindi le gambe non sono quelle che affronteranno il campionato ma comunque la mentalità c'è ed è quella giusta. Ora si va verso Milano per chiudere il cerchio di una rinascita del Perugia perché ricordiamo i fasti dell'era Gauci quando eravamo in 5.000 a Milano a vedere una partita di Coppa Italia. Ora torneremo fra una settimana a Milano per non so se saremo 5.000 ma comunque con lo stesso entusiasmo di allora ma che è stato lo stesso che ci ha visto giocare anche a De Ruta. Quindi con il massimo entusiasmo andiamo verso questa partita che è sì importante per questo momento ma non dimentichiamoci che dopo inizia la vera stagione che è il campionato. Abbiamo ricordato tutto, quindi appuntamento alla prossima gara del Perugia a Milano. Tifo Grifo ci sarà, nel frattempo vedo Grifo, lecco Grifo, ascolto Grifo, sempre Grifo con Tifo Grifo. Questo è il nostro lancio di questa stagione, saremo presenti a Milano e faremo del nostro meglio per aggiornarvi sulla situazione del Perugia. Forza Grifo!